Sicuramente non è stato semplice nel primo tempo perché la Cerrana comunque è venuto qui per giocare la sua partita, ci credevano, volevano sfruttare questo recupero per guadagnare tre punti sulla concorrenza e rilanciarsi in chiave playoff. Infatti il primo tempo secondo me hanno mantenuto bene il campo anche se l'Ischi ha cominciato subito in maniera aggressiva, pressando alto e facendo vedere tutta la sua idea di gioco, la sua identità nell'andare sempre avanti e giocare con intensità. Poi abbiamo trovato secondo me meritatamente il vantaggio con una bellissima azione, da lì la partita è stata in discesa e l'abbiamo condotta fino al 4-0 che ci ha permesso anche un po' di giocare con il cronometro, di fare qualche, anche far riposare qualcuno in vista della prossima partita e di gestire anche qualche situazione a livello di diffide e quant'altro. Quindi siamo tutti contenti perché era importante iniziare dopo le vacanze natalizie che sono sempre un ostacolo difficile da superare, era importante iniziare in questo modo e sfruttare questo recupero per portarci in vetta da soli. Noi abbiamo operato poco in questo mercato di dicembre ma penso bene, il fatto che abbiamo operato poco rende merito alle scelte che avevamo fatto quest'estate, quando siamo partiti in fretta e furia, però abbiamo allestito una rosa di tutto rispetto. Qualche piccolo errore l'abbiamo fatto, però fortunatamente è stato piccolo e abbiamo avuto modo di riparare a dicembre. Molte squadre hanno utilizzato questo mercato per rifare proprio la rosa, noi appunto questo mercato di riparazione non abbiamo riparato qualcos'è. Abbiamo aggiunto, oltre Luigi Buono che si stava allenando già con noi da qualche settimana, abbiamo raggiunto Michele Longo in attacco. E poi Pastore, penso che le prime prestazioni di questi due ragazzi diano merito anche a queste nostre scelte, perché anche oggi Pastore penso che abbia fatto un'altra straordinaria prestazione sia da centrale che da terzino destro. Longo si era presentato con tre gol in due partite, oggi aveva qualche problemino alla caviglia, quindi è stato disponibile a mezzo servizio. Però oggi Lischia ha una rosa competitiva, ha delle alternative che non sono alternative, perché vedi chi Carcamone ha fatto qualche panchina, però oggi si è fatto trovare pronto, così come è stato Antonio Abate, ha risposto alla grande. Qualche partita che non giocava è stato tra i migliori, vedi per esempio la prestazione di Cibelle a Pompei, vedi le prestazioni di Giovanni Mattera che gioca in tre o quattro ruoli senza cambiare il suo rendimento. Quindi oggi Lischia ha una rosa completa, ha una rosa con delle alternative, poi esprime un gran calcio. Buonocore dice che non è merito suo, ma secondo me è merito suo e gli riconosco i meriti per il grande lavoro che sta facendo, così come il merito dei ragazzi che stanno dimostrando grande professionalità. Però dobbiamo continuare così perché il campionato è ancora lungo e la concorrenza è agguerrita.